PIRLA DENTRO CASARES! Martin Casares 1-0 ma completamente, completamente libero all'interno dell'area di rigore. PIRLA DENTRO CASARES! Martin Casares! Vidal dentro, Alex Del Piero! Nel giorno più importante, nella partita più importante, nel momento più importante, l'uomo della storia della Juventus! 2-0 per la Juve! Vidal dentro, Alex Del Piero! Vidal dentro, Alex Del Piero! Vidal dentro, Alex Del Piero! Nel giorno più importante, nella partita più importante, nel momento più importante, l'uomo della storia della Juventus! 2-0 per la Juve! Nel giorno più importante, nella partita più importante, nel momento più importante, l'uomo della storia della Juventus! 2-0 per la Juve!